Una scuola costruita con le più moderne tecniche antisismiche, aggiornate al 2018, in pratica la scuola più sicura del Molise, quella che è stata inaugurata a San Giacomo degli Schiavoni, con una cerimonia che si è trasformata in una festa per gli alunni, le maestre e per tutta la piccola comunità alle porte di Termoli. Un edificio costruito a tempi record e che, come un'araba fenice, è risorto sulle macerie del vecchio, dichiarato inagibile e demolito a giugno del 2017. È stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Molise di 740.000 euro, a cui sono stati aggiunti 150.000 dal provveditorato alle opere pubbliche in 400 giorni, invece che 560 come previsto da apertura di cantiere, permettendo alla scuola di poter aprire ed essere inaugurata al rientro delle vacanze di Natale. Per questo il sindaco di San Giacomo, Costanzo della Porta, ci ha tenuto a ringraziare in primis l'impresa i cui operai hanno lavorato anche il 31 dicembre, ha detto, e i genitori degli alunni, che poi sono le famiglie del piccolo centro, che hanno aiutato nel trasloco e nella pulizia dei nuovi locali, ampi e luminosi e soprattutto sicuri. Negli ultimi otto anni le elezioni si erano tenute nel centro sociale del paese, riuscendo a evitare i container. Dopo otto anni di tribolazioni, la nuova scuola ci consente di ridare ai bambini finalmente un plesso sicuro e confortevole dove svolgere le loro lezioni in tutta tranquillità, la tranquillità loro e delle loro famiglie. Negli ultimi giorni, proprio per garantire l'apertura il 7 gennaio, che in tempi ordinari non sarebbe dovuto essere questa, tanti genitori, tanti papà e tante mamme ci hanno dato il loro aiuto e questo fa parte del senso di comunità. È una cosa che mi ha riempito di gioia e si vede che è un risultato veramente atteso dalla comunità san giacomese con la mano di tutti quanti. La scuola ospita per ora 55 bambini, tra il nido, la materna e le elementari. L'augurio è che presto ci possa essere spazio anche per le medie. Intanto l'assessore Vincenzo Niro ha assicurato che nei prossimi mesi arriveranno altri 80.000 euro necessari al completamento esterno della scuola di Corso Umberto. Alla cerimonia erano presenti anche i consiglieri regionali Quintino Pallante, Nico Romagnolo e Gianluca Cefaratti. L'augurio per il futuro è che questa comunità scolastica cresca, che possano arrivare anche bambini vicino ai centri di Mitro e anche dalle periferie di Termoli perché una struttura del genere non c'è negli altri comuni.